ciao a tutti i ragazzi di youtube oggi anniversario di cookie run kingdom ci troviamo qui sul pulare nuovo biscottino eclair che è fortissimo quindi almeno tre stelle ce le portiamo a casa io ho un sacco di roba da pullare non dico di andare all in perché se trovo tante copie prima di andarci effettivamente sarebbe meglio quindi intanto puliamo quello che abbiamo abbiamo un sacco di pull anche sulle schiene sui biscotti normali e niente speriamo di portare a casa più copie possibile trovarlo e godercelo perché veramente un biscotto forte poi ne parleremo appunto nei prossimi video nella prossima live al riguardo quindi mi raccomando rimanete con noi io qua vorrei questo a parte questo sapete che la mia main in questo gioco è latte e a me la skin di latte not found tiro una singola perché sono 16 e poi facciamo tre molti allora prima singola dovrebbe essere comune esatto allora possiamo schippare l'animation dimmi che mi manca no va bene prima molti dai allora dalla schermata sembrerebbe rari non epici abbiamo la conferma adesso rari ok biscotti rari uno su ce mamma mia mamma mia terribile ok quello è nuovo quindi buono e ce l'avevo questa è la triste questa era molto triste va bene tiriamo la seconda tutti i comuni tutti i comuni con la multi non è tristissimo no raga terza multi poi abbiamo finite qua ok qui ci dovrebbe essere un epico un epico qua c'è yes ok abbiamo un epico qua almeno uno me l'ha voluto dare meno male vediamo se è uno o più di uno dai dai che mi vuoi bene me ne dai due no me l'ha dato uno va bene allora comuni ce l'avevo nuovo ottimo e nuovo buono buono questo nuovo vabbè allora l'epico farà schifo no 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 vabbè no vabbè cosa mi ho detto prima di fullare voglio la skin di latte allora tre singole allora skipiamo veloci le singole che appunto ok una due ok frammento di mintcioco ciao sono io benvenuto in live e a tre triste 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 a posto allora tre molti nel banner normale vediamo se troviamo un epico in tre molti non penso ma può anche essere ok in cui può esserci come non da questa animazione ok raro vediamo adventurer frammenti di mango angel i comuni li ho tutti portati su mi manca solo princess degli e dei rari tra l'altro da portare su quindi buono che frammento di chili pepper quanti epici però frammento di licorice ancora princess ottimo accidenti un altro frammento di mintcioco un altro raro un'altra princess questo non mi serve grazie però molto gentile ok anche pancake giusto mi mancano pancake princess da portare a cinque stelle seconda multi ok questo è raro ok purple princess pancake pancake anche lei mi mancava top ok al che mi so portato al massimo maxata ok dai pancake mamma mia non commento non commento questo si rifletterà in niente claire prima è proprio lo sento percepisco ok pancake è carinissimo è uno dei miei preferiti esteticamente perché veramente troppo youth ginger e basta ok ultimo multi qua può esserci un epico come può non esserci non c'è bene teniamoci per eclair mi piace una strategia due pancake e ancora vampire cookie abbonata onion dai dai un altro pancake un'altra princess no night va bene i comuni ormai non mi serve più nessuno quindi cioè quando vedo che c'è il biscottino comune potrei anche schippare così guarda diciamo così tiger really mi mancava oh finalmente non l'avevo ancora mai trovata oh grazie è come se avessi trovato un epico allora in questa multi per me conta come se avessi trovato un epico vabbè latte maxata 120 frammenti perfetto prime tre singole ok seconda ok e terza perfetto bene ok ci siamo andiamo prima multi sul banner di eclair data me l'ha seguito grazie come con coca allora singolo può esserci come non raro però magari c'è qualche frammento tre frammenti ottimo ottimo tre frammenti sono il massimo e si possono ottenere in una multi quindi sono sempre contenta quando vedo tre frammenti è triste quando se ne da uno ora è bruttissimo uno non si sostiene ok carrot costard ventura altri tre ok buono multi con quasi mezzo epico ok sei frammenti sei frammenti sei frammenti sei frammenti non è male secondo molti secondo molti epico ora speriamo che sia quello giusto epico ora speriamo che sia quello giusto ok ce n'è uno solo bene siamo intesi andiamo ecco qua dai dai no veramente vi giuro veramente vi giuro meraviglioso bene altri frammenti di pancake perfetto amico mio caro eclair vieni a me ti invoco prima multi fatta con le gemme andiamo andiamo ok raro prima multi fatta con le gemme rara maledetto però dammi tanti frammentini princess ottimo un'altra princess così la portiamo su no onion ok questo chi è angel bellino quando te lo danno all'inizio e lo usi pomegrade un'altra che mi banca dai 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 pomegrade altri due pezzi di pomegrade datemi in queste molti così sblocco un altro epico di quelli che mi mancano che sono ancora senza io sono ancora senza pomegrade rendiamoci conto dai anche sparkling mi manca mi sembra anche black racing mi manca quindi se per caso mi escono anche questi diefici sono comunque una buona multi ok andiamo ok mezzo e mezzo raro questo banner mi sta un po' odiando forse ho avuto troppa fortuna con coqua ok blackberry con coqua era andata troppo bene secondo me ok dai un epico va bene grazie non mi serviva ma grazie ok strawberry ok perfetto questa è tipo la multi triste multi numero 3 rara ok vediamo qua se c'è qualche altro frammento o almeno allocare me lo faranno allocare è un maschio ragazzi eclair eclair è un maschetto ok andiamo ho tre frammenti meno male meno male almeno mi vogliono bene mi danno tre frammenti la cosa buona è questa che mi vogliono bene e dicono vabbè dai un po' pena ce la fai ti diamo un po' di frammenti grazie quattro grazie sono molto contenta così grazie siamo a metà senza averlo trovato siamo a metà il che vuol dire che poi quando inizieremo a trovarlo avremo già nove frammenti per poi portarlo su quarta multi epico ok quarta multi epico bene ora aspettiamo la schermata per vedere se sono più di un epico e poi schippo ok ce n'è uno solo andiamo dai dammelo dammelo ti prego basta stirare chi sei ah no pancake va bene a te ti voglio quindi va benissimo ok clover custard wizard ok dai ti prego ti prego si si ma siamo sdora è lui si si ma che bella l'animazione ma quanto caruccio bene bene almeno uno posso dire di averlo preso l'altro sta a middle non sta a front buono buono molto bello ok ginger brave ok uno lo abbiamo almeno posso dire che l'ho trovato un altro pancake no custard custard sono già usciti 45.000 va bene va bene va benissimo va benissimo e dai scia positiva andiamo verso eclair c1 yes ora vediamo se è però intanto due multi attaccate è già qualcosa grazie 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 gioco mi vuoi bene allora un po' due epici due epici due epici mi sembrava forse non ci vedo ok dai ti prego museum's door per me no cotton cotton però cotton la sto portando su quindi alla fine va bene cotton sempre tra di noi sempre presente grazie cotton ti voglio bene ok dai che c'era il secondo epico io l'ho visto non ho visioni tre frammenti di eclair che non si buttano eccolo ti prego dimmi che sei eclair ti prego sì 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 va bene sì sono contenta sono contenta gli faccio la foto grazie albi di avermi lo ricordato ok buono buono basta stavo dicendo un altro sì brava princess brava continua a uscire bravissima ok buono dai no non è shaft non è shaft c'è un epico ora c'è da vedere cosa c'è da vedere cosa e quanti ce n'è uno qui ce n'è uno solo ok due pancake dai dammi un'altra eclair dammi un'altra eclair e dammi pancake adesso no clover clover sei bellissimo sei bellissimo clover e questa è la pancake pop va bene abbonati a clover che non ci dispiace a me piace tantissimo un frammentino di eclair che non fa mai male ok ok roba ancora roba ancora roba ok dai ti prego ti prego fammi questo regalo gigante no è la medusa ok niente medusa ok 67.000 andiamo uno che può dire sia ci sono che non ci sono raro va bene va bene è normale dai dopo tre molti con epico non posso dire niente dammi soltanto qualche frammento magari di creare o dei personaggi che mi mancano se mi vuoi bene o anche il frammento di oliberry che mi manca mi manca un frammentino di oliberry per bloccarla quindi se mi vuoi dare quello evito di aspettare la prossima ehm refresh dell'arena ok grazie questo mi ha portato a 100 ok ok perfetto questa era molto shaft andiamo anche questi vogliono dire come non vogliono dire rari di solito dicono anche che sono epici eh però oggi voglio dire solo che sono rari ok no questa ce l'abbiamo già dai mancano soltanto pancake e princess ti prego ti prego voglimi bene fammi definire bene grazie hai capito al volo ma un frammento di etico qui lo abbiamo non lo abbiamo ok questo è princess no è pancake ok pancake maxato pancake maxato ottimo buonissimo manca soltanto princess dei rari voi chiamate il museo forza no questa è rara annaggia brutto 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 ok raro princess l'ultima che manca sì ok no due frammenti dai ti prego princess torna a casa due frammenti di princess te prego grazie grazie siamo sulla stessa linea d'onda gioco anche si feri adesso prossima molti si feri ok e poi siamo a posto ok abbiamo finito buono io ti invoco ormai sono rassegnata questa è rara no visto a dire che questa è rara mi è stato anche riscattato un beve io bevo intanto ok ce n'è uno solo buono ok ci siamo il museo il museo se prego il museo ottimo il museo è tornato a casa grazie grazie e così è a due stelle è a due stelle un altro frammento di eclair buono quindi frammento eclair frammento carina il museo sì ok dai dammi un altro frammentino epico grazie va bene grazie va bene grazie grazie grazie